Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, è terminato l'Olimpico, è terminato con un risultato incredibile, incredibile, 3-1 della Salernitana in casa della Lazio, prima volta che la Salernitana riesce a vincere a Roma e questa è un'ennesima impresa di Davide Nicola. E... ragazzi, onestamente sull'1-0 in favore della Lazio non avrei mai, mai, mai pensato in un simile risultato finale, ma è questa la bellezza del calcio, pazzesco, pazzesco quello che è successo all'Olimpico e anche pazzesca la classifica, perché partiamo subito da lì, la Salernitana va a 16 punti in questo momento al nono posto e la Lazio si ferma a 22. Incredibile, incredibile quello che è successo oggi ragazzi, perché la Lazio era in pieno controllo della partita, addirittura aveva avuto un'occasione colossale con Vessino per raddoppiare e poi, e poi, Candreva, si inventa un super gol, un golasso di Candreva e riapre tutto. Da quel momento tutte le certezze della Lazio, a mio avviso, sono venute a meno, tutte, e da quel momento lì è venuta molto più fuori la Salernitana. Salernitana che nel primo tempo aveva messo un po' di intensità, sì, però non aveva praticamente mai creato occasioni pericolose, poi dopo il gol è come se si fosse riuscita a sbloccare. È calata anche, a mio avviso, la Lazio, però è stata impressionante poi la Salernitana, ragazzi, come è riuscita a venire fuori, perché poi le potenzialità della Lazio le sappiamo. La Lazio quando attaccava faceva comunque paura, ma io innanzitutto non sono stato d'accordo sul cambio che ha fatto Sarri, di tirare fuori Luisa Alberto, Acciacchi che aveva avuto, non Acciacchi, forse non aveva 90 minuti, tutto quello che volete, ma ne aveva ancora, si vedeva, ed era, a mio avviso, quello della Lazio che stava dando geometrie. Col suo cambio sono venute a meno e l'ha pagata. Invece un cambio che è stato molto importante, a mio avviso, nella Salernitana è l'ingresso in campo di Dia, al posto di Bonazzoli, che oggi a me onestamente non è piaciuto, non mi è piaciuto affatto. Altro giocatore che non mi è piaciuto affatto oggi nella Salernitana, Bron. Praticamente in ogni errore della Salernitana, o comunque in precisione di mezzo ci fidiva o ci passava lui. Il primo gol è un suo errore. A me onestamente, ragazzi, non è un giocatore che piace, però è entrato in campo con l'infortunio di Gionberg, un abbraccio a lui e vi auguro che non sia niente di così serio. Però veramente oggi Bron male, male. Però ragazzi, come sempre, certi errori si pagano, perché poi la Lazio ha l'occasione di andare subito 2-0 all'inizio del secondo tempo, ha un'altra occasione con Vecino, non riesce a sfruttarla. Poi lì bisognava vedere se tutta l'azione era regolare o no, perché si parlava di un possibile fuorigioco di Felipe Anderson, però comunque sia ha avuto l'occasione più volte per andare sul 2-0 e poi invece si trova addirittura sotto 3-1. Tra l'altro gol di Fazio, ragazzi, aria di derby per lui e la butta dentro, come qualche anno fa in un derby. Vi giuro, sono esaltatissimo, perché stavo guardando la partita diciamo quasi affranto che sarebbe stata una partita ormai a senso unico, c'era il rischio che diventasse una partita noiosa. Invece, cioè, dal sessantesimo in poi si è accesa ed è stata bellissima come partita. Veramente. Un altro che oggi non mi è piaciuto tanto, né la Salernità né Sepe. Sepe è un portiere che dà piuttoste garanzie nella squadra di Davide Nicola. Oggi, a mio avviso, ha fatto qualche errore non da lui. Anche su qualche respinta poteva fare un po' meglio. Io, non mi è piaciuto tanto, non mi è piaciuto tanto. Poi però, ripeto ragazzi, la differenza la fa la qualità. Mazzocchi, Candreva, Dia, sono giocatori che hanno qualità. La qualità fa fare quel salto di qualità. In certe occasioni ti porta più in là della sticella. Te la fa saltare, questa sticella. Oggi la Salernitana l'ha saltata, l'ha saltata clamorosamente. Critica a Maurizio Sarri. Non si può tenere fuori Milikovic-Savic. Non puoi tenere fuori Milikovic-Savic. Il giallo, a mio avviso, che li costa al derby, è un giallo ridicolo. Ve lo dico subito. Fa saltare il derby a un giocatore per un intervento del genere è veramente una cosa ridicola. Però, ragazzi, Io penso veramente che oggi la Salernitana abbia dato una sorta di lezione alla Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante fosse una squadra nettamente inferiore, nonostante stesse giocando una brutta partita nel primo tempo, è rimasta sul pezzo, è rimasta squadra e poi, appena potuto, ha colpito. E, signori, quando hai di fronte, Davide Ricola, con la sua Salernitana, dei miracoli, non ti puoi permettere il lusso, non ti puoi permettere il lusso di dormire. Perché poi ti puniscono i giocatori di qualità. La Salernitana assolutamente li ha. Ripeto, sono gasatissimo. Mi ha gasato tantissimo questo secondo tempo. Ve lo giuro, se mi avessero detto a fine primo tempo, devi mettere un euro sul pareggio della Salernitana, neanche sulla vittoria, sul pareggio non ci avrei mai, onestamente, scommesso. Perché mi sembrava una partita proprio indirizzata ormai. La Salernitana non aveva creato occasioni. E poi nel secondo tempo direi che qualche occasioncina l'hai riuscita a creare. Quindi, complimenti, complimenti, veramente di cuore alla Salernitana. E un grazie, perché così ci tiene la Lazio comunque abbastanza vicina in classifica a noi gobbacci. Veramente, ragazzi, che cuore. Che cuore che ha questa squadra. Incredibile. 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 La Lazio deve sicuramente fare un mia colpa grandissimo. Perché, ragazzi, capiamoci, le risposte a vita della Lazio oggi, cosa va a dire, sono tantissime, tantissime. Perché una volta che sei in vantaggio, una volta che sei in pieno controllo della partita, una volta che hai più occasione e non riesci a sfruttarla, e poi perdi 3-1. Devi andare a casa zitto e camminare proprio a testa bassissima, bassissima. Quindi, complimenti, complimenti alla Salernitana, complimenti a Davide Nicola, complimenti ai giocatori della Salernitana. Io continuo a dirlo, ragazzi, ci possono essere limiti, limiti, ci possono essere differenze qualitative enormi, però l'attitudine dei giocatori, l'attitudine di una squadra è quella che fa la differenza. Oggi, ad esempio, perché dico che non mi è piaciuto Bonazzoli? Perché Bonazzoli è un giocatore che comunque corre tanto, che si sbatte. Oggi non l'ho visto neanche così sul pezzo, in questo senso. E poi, onestamente, ragazzi, io di A non lo tirerei mai fuori, non lo metterei mai fuori. Fosse anche stanco, morto, non lo tirerei mai fuori. Non lo tirerei mai fuori. È veramente un bel giocatore, veramente un giocatorino importante. Ovviamente, la Salernitana fa la differenza. Va bene, ragazzi, io vi mando un forte abbraccio. Vi invito a iscrivervi al canale, diffondete il verbo. E per ultimo, che bello, che bello vedere quei ragazzini che tifano per la Salernitana, in tribuna, in lacrime, c'è tutta l'essenza del calcio. C'è tutta l'essenza del calcio. Anche perché oggi sono stati testimoni di un pezzo di storia della Salernitana. Andare a vincere per la prima volta a Roma. Loro un giorno potranno dire io c'ero. Bello, bello. Un forte abbraccio. Di Fone del Verbo. Ciao.